Buongiorno a tutti e benvenuti a un nuovo video di Innovation Packaging Siemens. Sono Calogero Lombardo, System Manager Packaging, e oggi vi farò conoscere O-Packaging, una realtà nata a Bologna, con una solita tradizione nel campo del confezionamento primario e secondario di prodotti farmaceutici e cosmetici. La sinergia fra Siemens e O-Packaging ha preso forma con la macchina Galaxy 600, dove, grazie al motion controller C-Motion D, al drive modulare Cynamics S120 e ai servomotori della famiglia C-Motics 1FK7, U-Packaging offre ad un mercato esigente, come quello farmaceutico, una blisteratrice flessibile e altamente affidabile. L'engineering software della macchina, quindi motion, interfaccia operatore e funzioni decentrate gestite con il sistema ET200SP, sono completamente realizzate con il TIA Portal. Il mercato in cui si colloca O-Packaging evolve verso il progressivo aumento del numero dei lotti di dimensioni sempre più contenute. Allo stesso tempo sono richieste produzione di alta qualità. Realizzare macchine capaci di competere in questo scenario non può prescindere da un partner come Siemens, leader nelle macchine da packaging. Un bel vantaggio alle performance di Siemens. Grazie e arrivederci al prossimo video!